E' stata trovata morta Elda Marchesi Randi, l'84enne che era scomparsa il 25 gennaio. La donna si era allontanata da Buster Sizio Varese con la sua automobile e da quel giorno era scomparsa nel nulla. In primis, durante le ricerche era stata ritrovata l'auto poco dopo il corpo. Dal primo esame autoptico non sembrerebbero esserci segni di una morte violenta. Resta ancora tutto da accertare cosa sia accaduto alla donna. Ciò che si è saputo è che l'84enne soffriva di problemi di memoria.